Il mio cane è entrato nel soggiorno, ho sentito che ringhiava e aveva un comportamento strano, sicché a quel punto sono entrato in casa e ho sentito il rumore nelle camere, mentre andavo nelle camere questi sono scappati, saltando dalla finestra. A dare l'allarme è stata proprio lei, la piccola Morgana, ma purtroppo la banda di ladri aveva già svaliggiato la villa che si trova sulle colline di Sansepolcro, proprio mentre i proprietari di casa stavano cenando in veranda con alcuni amici solamente a pochi metri di distanza dai banditi. Mi hanno portato via orologi, gioielli, collezioni di penne, collezioni di monete, tutta una serie di cose che fanno parte un po' della storia di ognuno. In 20 minuti, tanto infatti sarebbe durato il ride, i ladri sono riusciti a portare via un bottino da decine di migliaia di euro. Il tutto è stato anche immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero adesso fornire preziosa indicazione ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Abbiamo un documentario dove si vede effettivamente questa gente che gira per casa, molto scoperto, senza nessuna remora, con i guanti, con una torcia per inquadrare meglio le cose da prelevare. Ma ripeto, rimane assurda la tranquillità e l'impunità con le quali questa gente gira. Grazie.